Come si tratta di ricostruire? Come si tratta di ricostruire una storia del pensiero con questo lungo arco di tempo e tutti i problemi che sono connessi a questa storia delle idee. E vorrei approfittare di annunciare un'altra iniziativa che avremo qua alla fine di aprile che verrà da noi Vittorio Hösle per parlare del suo libro, uno dei suoi ultimi libri che sono usciti, Critique der Verstehenden Vernunft, in cui cercherà, ma questo è un libro che affronterà in modo generico tutti i problemi dell'ermeneutica, ma non soltanto tutto ciò che ha a che fare con comprendere, comprendere i testi, comprendere l'altro. E naturalmente tornano qua tutti i problemi dell'interpretazione dei testi, tutto ha cominciato con l'interpretazione della Bibbia, tutto è nato lì. Lui verrà qua per due giorni, 29 e 30 aprile, se avete tempo o siete cordialmente invitati. Allora, grazie ancora per l'ospitalità e anche per questa indicazione. Allora, indubbiamente il discorso si complica, no? Perché in qualche modo entriamo all'interno di pensatori così creativi da un punto di vista speculativo che contrarli, unicamente all'interno di quella che è una figura storico-teologica, seppure fortemente connotata, risulta sicuramente problematico. E allora, torniamo a una questione metodologica, no? Che senso ha proporre un'indicazione di questo tipo? È evidente che se c'è un elemento che comunque continua a connettere la figura di Leibniz e quella di Kant a la nostra traiettoria, è la concezione teistica-personalistica. Cioè, in fin dei conti, il continuare a pensare l'assoluto nei termini del Dio personale. Allora, questo, al di là dell'originalità, della distanza fra i due, delle innovazioni radicali a livello concettuale, rimane un filo conduttore che consente anche il recupero di strutture, di vari e propri format teologici e tradizionali che ovviamente vengono adattati, no? Poi alla peculiarità teologica, metafisica e poi dopo critica delle loro filosofie. In questo senso è del tutto ovvio che la questione bruniana è la più delicata da trattare, no? Cioè, Bruno indubbiamente è il pensatore che proprio per l'esigenza di superamento di una configurazione teistica-personalistica, di una centralità cristiana, pensiamo allo stesso spaccio sostanzialmente, come grido d'assalto e come scarto, non solo contro le riforme, ma io direi proprio contro la concezione del Dio personale. È il pensatore che più fai fatica a tenere all'interno della traiettoria. E evidentemente un discorso analogo andrebbe fatto nei confronti di Spinoza, dove il concetto di infinità di Dio, di infinità degli attributi, al di là della loro conoscibilità limitata da parte dell'uomo, dell'infinità dei modi, servirebbe non per dimostrare una dipendenza o una collocazione all'interno di questa traiettoria, ma per meglio comprendere, no? Per genere prossimo e differenza specifica, in cosa questo pensiero dell'epectasis, come pensiero dell'infinità, riesca comunque a mantenere una connessione e una coerenza propria. Aggiungo un secondo elemento, appunto, è qui, Wilkungsgeschichte, storia delle idee, no? Trasmissione di quelli che sono dei moduli concettuali e teologici. Identifichiamo nelle citazioni che vi ho riportato, e ovviamente il campo di indagine si potrebbe enormemente allargare all'interno soprattutto di Leibniz, identifichiamo proprio delle spie di dipendenza specifica da testi della nostra tradizione, cioè non sono assonanze o associazioni generiche, ma sono proprio consapevoli recuperi. A livello introduttivo, ricordo come per Leibniz sia fondamentale, oltre al recupero della tradizione filosofica greca, il recupero della tradizione patristica. C'è una specie di enciclopedismo teologico, vorrei dire, da parte di Leibniz, ne identifichiamo proprio la, come dire, peculiarità tipicamente barocca, noi potremmo dire che la verità e quindi in qualche modo il lavoro filosofico è veramente quella capacità di tenere insieme la totalità. Quello che noi abbiamo limitatamente indicato a partire da Elugena, sostanzialmente, potremmo dire che in Leibniz si dilata enormemente, e quindi, ripeto, non soltanto mondo pagano, questa ormai è tradizionale, è una tradizione filosofica del platonismo cristiano, che non può che recuperare i modelli pagani, ma anche l'attenzione a tutta una serie di religioni, pensate agli interessi per la Cina, per il mondo della Cina, da parte di Leibniz, e quindi questa esigenza di costruzione di una religione universale, di una matematica universale, di una logica o di un sistema concettuale universale. Secondo elemento, vedete che il primo testo che io vi ho selezionato da parte di Leibniz, mi pare sia questo, sì, è la Confesso, Filosofi, che è un testo sostanzialmente giovanile, un Leibniz più o meno 25enne, in cui la questione dell'escatologia e la questione della teodicea, possiamo qui davvero con lui utilizzare il termine in senso rigoroso, è assolutamente preeminente, ed è costruita attraverso una documentazione patristica non indifferente. Ad esempio, Leibniz che è quello di di Salucita, D'accordo? Quindi lo legge, lo conosce. Più complesso vi sollevavo e indicavo, così come origine, non è un caso che, ad esempio, Lessing intitoli una sua opera Leibniz o delle pene eterne. Voi capite che connette immediatamente Leibniz alla questione dell'escatologia, alla questione della logica, possibilità di un mantimento eterno, delle punizioni, e quindi la nullificazione infernale. Tema che vedremo riemergere evidentemente nello stesso canta. Allora, ripeto, qui siamo collocati all'interno di questa tradizione per dipendenze testuali, per opzioni di fondo da un punto di vista teologico, cioè il Dio personale è un Dio antispinoziano, il Dio leibniziano è un Dio antispinoziano. Anche da questo punto di vista sarebbe interessante complicare l'indagine, no? In fin dei conti il pensiero dell'infinità in relazione a un Dio personalista è anche un pensiero che tenta di contenere una situazione di crisi radicale, sostanzialmente. Da questo punto di vista l'emersione dello spinozismo è l'emersione di una crisi radicale, no? Cioè un pensiero dell'infinità non personalistica, scusate se banalizzo, o di un assoluto che è sganciato completamente dall'idea di finalità. Mentre voi capite che tutto il sistema leibniziano ubbidisce alla centralità di idea di finalità. E che quindi la questione stessa della teodicea è la tenuta razionale possibile dell'idea di finalità. Allora da questo punto di vista è molto interessante confrontarci con l'esigenza del recupero, del progresso all'infinito, come possibilità di mediazione infinita delle differenze e di superamento del dualismo, la grande questione post-cartesiana sostanzialmente, in prospettiva antispinoziana. Allora io queste cose le indico e vigliaccamente me ne ritraggo immediatamente per tornare subito all'indagine testuale. Ma voglio dire, voi capite che è particolarmente interessante la riattivazione di una struttura teologica tradizionale all'interno di una situazione diciamo filosofica e teologica assolutamente critica. D'accordo? Quindi, e in questo senso lo stesso Kant va interpretato. All'interno di questo tentativo potremmo persino definirlo conservativo, cioè innovare radicalmente per conservare qualcosa che viene radicalmente messo in questione, minacciosamente messo in questione. Insomma, l'ombra di Spinoza è lunghissima e potente, no? Cioè, voi capite che cosa significa tutto questo? E in questo senso torniamo alle questioni brugnane che avevamo soltanto sfiorate. Che cosa vuol dire un infinito non personalistico? Che cosa significa quindi la relativizzazione dell'idea di finalità unica all'interno di un universo infinito non personalistico senza finalismo? Allora, vorrei leggervi proprio la prima citazione perché poi vedete che si sa, ho saltato a testi molto più tardi, ora non voglio perder tempo sulla difficoltà, no? Della documentazione dei testi leibniziani, ricordo che il grande testo pubblicato da Leibniz sono sostanzialmente quello dei saggi di Teodicea, no? Per il resto la sua produzione è una produzione diciamo molto ridotta e con una circolazione abbastanza limitata, almeno Leibniz è vivente. cominciamo a leggere questo testo giovanile della Confesso e Filosofi al modo in cui ciò che si muove allora lo dico a livello proprio scolastico cos'è la monade? È il tentativo di riaffermare l'identificazione della realtà con l'atto intellettuale sostanzialmente e quindi di superare il dualismo interpretandolo come modalità fenomenica potremmo dire del divenire dell'autocoscienza dell'atto dell'atto intellettuale o dell'atto spirituale. In questo senso l'ambito della materia si dà in funzione e in indipendenza dall'atto dell'autoriflessione della monade il che vuol dire una realtà che è tutta numerica per intenderci in termini kantiani e da questo punto di vista la fenomenicità non è altro che una modalità seconda ecco in fondo riadattare certe immagini sostanzialmente originiane del grado di autoconsapevolezza di perfezionamento della monade come atto intellettuale atto spirituale la monade è sempre immagine di Dio per Leibniz ancora una volta noi potremmo dire che il sistema leibniziano ubbidisce la dottrina dell'immagine e quindi ha una strutturazione della realtà in senso analogico che dipende dalla dottrina dell'immagine quindi c'è un presupposto teologico fortissimo quindi la monade è sempre immagine di Dio in quanto immagine di Dio è infinita ma come al solito potenzialmente e non attualmente ma essendo infinita a seconda del grado di autoconsapevolezza si colloca a determinati gradi di perfezione con la complicazione no? avevamo accennato questa mattina dell'ipotesi che ogni monade cioè ogni realtà che noi cogliamo in realtà al suo interno è un'infinità di monadi allora la complessità della costruzione monodologica la inizia all'interno della quale non voglio perdermi ricordatevi la famosa fontana dei pesci che tutti voi spero in qualche piccolo spazio della memoria ricorderete allora al modo in cui ciò che si muove non è mai fisso in un luogo e tende invece sempre a un luogo così costoro non sono mai dannati notate una variante rispetto al nostro schema ovviamente si sta parlando dei dannati dei degli uomini dannati cioè tali che se anche volessero non potrebbero cessare di esserlo ma sempre dannandi ovvero si dannano nuovamente da soli ad ogni istante cioè che cosa sta facendo qui Leibniz sta applicando la dottrina delle pectasis non più alla condizione beatifica ma la condizione dei dannati qui il problema è anche un problema ancora una volta di concordia di tradizione teologica patristica che è molto forte nella Confessio Filosofi e di accordo di questa tradizione teologica con diciamo le istanze filosofiche razionalmente più evidenti se ci si danno a causa dell'odio verso Dio quanto più l'odio continua si accresce tanto più continua si accresce la dannazione come i beati una volta ammessi con un continuo infinito progresso al cospetto di Dio ovvero una volta e con un solo colpo d'occhio abbraccino concentrata l'armonia universale e la suprema ragion d'essere hanno ancora modo notate questo termine che è la traduzione dal latino infinitiplicare incessantemente il loro piacere mediante una più distinta riflessione sugli aspetti della loro gioia non potendo esistere il pensiero e quindi il piacere senza costante novità e progresso notate pensiero e piacere non si danno senza progresso costante novità temporalità è una tesi che tornerà identica in Kant quindi è del tutto evidente che notate anche questo elemento tipico laemniziano noi potremmo dire che il gaudio infinito nella contemplazione divina sta anche nell'infinitizzazione della singola conoscenza che la mente attinge cioè in fin dei conti ogni realtà è un oggetto infinito di conoscenze di moltiplicazione teoretica che la mente è chiamata a ricostruire andiamo più avanti e sarà più chiaro lo stesso modo i furiosi che hanno sfidato la natura delle cose quanto più diventano abili con una diabolica perversione della scienza nella conoscenza delle creature tanto più saranno perpetuamente irritati da nuova materia di indignazione di odio e di invidia per dire una parola di rabbia cioè notate in fondo il dannato è colui che anziché accogliere e lodare Dio in ogni aspetto della creazione di moltiplicarne la lode tramite la moltiplicazione della conoscenza e della gioia il dannato ne moltiplica l'odio e la rabbia tu dici che è un dialogo che come la miseria dei dannati anche la felicità dei beati cresce perpetuamente ma non capisco come possa mai crescere la visione dell'essenza divina se visione di un'essenza è visione esatta e se esatta non può accrescersi e l'affermazione laibniziana anche la conoscenza esatta può accrescersi una specie di affermazione paradossale dove qui conoscenza esatta in qualche modo dice qualcosa di diverso rispetto alla tradizione gregoriana che vi ricordate affermava l'inattingibilità della conoscenza effettiva di Dio dell'essenza effettiva di Dio non per la novità della materia ma per quella della riflessione Dio contiene tutto al proprio interno non può compararsi con nulla di esterno ti darò allora l'esempio di una cosa finita che esibisce infinite proprietà anche senza che abbia luogo la comparazione con qualcosa di esterno cerchio notate che torna l'analogia il problema del rapporto anche tra Leibniz e Cusano è evidente che questa immagine del cerchio in realtà si diffonde d'accordo e si moltiplica però ripeto stessa teoria stesso esempio è evidente che la fonte rimane quella se sai che tutte le linee che vanno dal centro della circonferenza sono uguali ritengo che tu ne abbia abbracciato abbastanza prespicuamente l'essenza ma non gli numerevoli teoremi notate che l'esempio Cusaniano viene in qualche modo infinitiplicato attraverso la infinita possibilità di teoremi che qualsiasi elemento geometrico può potenzialmente contrare in sé si possono infatti scrivere nel cerchio ciò significa che anche se non lo disegnavano ne riscono di già tante figure diverse anche se regolari quanto sono i numeri cioè infinite ciascuna delle quali offrebbe lo studioso un'ingente serie di teoremi notate la figura non è soltanto analogicamente l'esempio di una conoscenza che progredisce l'esempio Cusaniano del moltiplicarsi degli angoli e quindi del moltiplicarsi del progredire nella analogazione del poligono iscritto al cerchio in questo caso notate ogni figura origina un'infinita serie di teoremi in questo caso anche la mosca l'abbiamo parlato questa mattina è un oggetto infinito di speculazione e notate ogni aspetto del reale in sé è una piega infinita di verità e di realtà in quanto immagine di Dio stesso allora chiaramente essendo una monade un intelletto essendo Dio una realtà intellettuale assoluta e perfetta la modalità di restituzione del rapporto con Dio è una modalità conoscitiva ed è una modalità teoretica in senso proprio specifico io vi ricordo d'altra parte che origine sia nel Periarchon che nel commento a Giovanni concepiva il rapporto tra il figlio e il padre come sapienza ricordate la prima epinoia quella che era proprio della contemplazione del figlio del padre come contemplazione della scaturigine della molteplicità di teoremi e di verità che il figlio contemplava nel padre cioè il figlio in quanto sapienza è contemplazione dei teoremi della verità cioè un atto puramente teoretico qual è la differenza che in Leibniz i teoremi si sono infinitizzati e quindi la conoscenza dell'infinito è una conoscenza della struttura infinita dell'atto teoretico confesso che non mi ho spesso domandato in che modi vi fosse piacere nella visione dei beati se l'animo mi resta quasi stupito soffermandosi immobili ad abbracciare il tutto con un solo colpo d'occhio ora tu mi hai dissipato questa nube conciliando la novità con la completezza notate che la struttura chiamiamola delle pectasis è una struttura che concilia l'attingimento dell'assoluto con la progressione della novità in questo senso è veramente evidentemente un atto dialettico è l'innovazione inesauribile che si nasconde come scoperta progressiva della pluralità dei teoremi permettetemi di dato che è l'ultima chiacchierata ricapitolare anche un filo di quello che avevamo svolto all'inizio cioè in riferimento a Gregorio di Nissa vi ricordate io l'ho detto molto in fretta che in fondo la dottrina delle pectasis è una dottrina che tende a restituire come progresso contemplativo e scatologico la dimensione strutturalmente scatologica del Dio cristiano cioè in fin dei conti la struttura della teofania è una struttura di visitazione infinita della verità allora cosa vuol dire pectasis Dio continua a venire ricordate che citavamo l'ultimo versetto del cantico dei cantici fuggi un altro versetto del cantico dei cantici commentato meravigliosamente che inizia dice è un continuo di refuggi e vieni quindi la struttura delle pectasis è una struttura estatica e scatologica che in fin dei conti intellettualizza la struttura escatologica apocalittica dell'origine cristiana che ovviamente continua ad agire nei testi che vengono utilizzati pensate alla nozione paulina di pectasis no? cioè l'epectenomenos è la protenzione verso una fine che in qualche modo è scatologica che ancora non si possiede ma verso la quale si procede ricordatevi la preghiera sia della fine dell'apocalisse che della fine della prima lettera di colinzi di Paolo ma ranata vieni signore cioè in fin dei conti è dire addio il vieni allora da questo punto di vista cosa è interessante è che l'Aimnitz questa struttura escatologica ormai è completamente logicizzata cioè in fin dei conti la indagine della realtà è un'indagine infinita di continua infinita visitazione e scoperta dell'inesauribile novità del divino quindi è una logicizzazione della novità dell'apparizione dell'infinito a colui chiama Dio l'armonia universale notate il concetto sempre di concordio armonia universale spetta di essere contento del passato infatti non potendo darsi che esso non sia avvenuto è certo che Dio lo ha voluto e che pertanto è esso il migliore possibile è un testo interessantissimo perché vedete che il tema del migliore dei mondi possibili dell'accettazione penso ai saggi di Teodicea dell'accettazione della necessità assoluta e in qualche modo il recupero dialettico del concetto di predestinazione concordato al concetto di libero arbitro cioè in fin dei conti i saggi di Teodicea ricordate finiscono con la visione del palazzo celeste sostanzialmente quindi con questa mediazione tra la necessità assoluta in cui tutti i destini sono scritti e i processi individuali delle categorie sono scritte e i processi liberi di appropriazione della verità infinita allora notate come è impressionante come qui già ci si annuce tutto il tema del Leibniz maturo e ripeto però come queste questioni emergano all'interno della riproposizione di strutture teologiche tradizionali come dire non è una fesseria questo schema non è una come dire una una un mero dato chiamiamolo archeologico antiquario il riaffiorare di una dottrina è come se questa dottrina nascondesse in sé un potenziale di sviluppo concettuale che continua a originare e come dire ad aprire questioni a riattivare poi questioni che al suo interno in qualche modo cerca di risolvere ripeto il rapporto tra necessità e libertà ricordate come nella questione dell'originismo avevamo alla fin fine tramite anche una citazione di eriugena affermato come il libero arbitrio in realtà non pecca mai perché già iscritto nella necessità ovvero persino il peccato del libero arbitrio non è altro che una specie di allucinazione o di riflesso già risolto nella perfezione del libero arbitrio iscritto nella eterna necessità logica di Dio manifestazione logica di Dio quindi ripeto le ultime pagine della teodicea sarebbero da leggere in connessione con queste questioni qui pensate al luterano Leibniz che lavora a un progetto di conciliazione universale di armonia dogmatica universale e di enciclopedica sintesi teologica delle confessioni cristiane cioè no il tentativo quindi di varare un pensiero autenticamente cattolico pensate ai contatti anche Leibniziani con l'Italia d'accordo il suo viaggiare il suo entrare in contatto con gli ambienti jansenisti tra l'altro e quindi il tendere a tessere questa struttura in cui il pensiero dell'autorità è un pensiero capace di accogliere tutto e di mediare tutto e allora anche da un punto di vista della dottrina della giustificazione di mediare di connettere dottrina della predestinazione e dottrina del libero arbitro in questo senso molto melantoniano uno potrebbe dire no? Erede di Erasmo uno potrebbe anche utilizzare una provocazione anche se a un livello speculativo che Erasmo avrebbe abborrito letteralmente ma per dunque ma per quanto riguarda il futuro poiché a quanto ci costa nulla è pregiudicato vi spazio per industriosità scelta coscienza di ciascuno l'amante di Dio se merita di togliere o eliminare un vizio o un male avrà per certo che non doveva emendarlo ieri ma presumerà di doverlo emendare domani vedete questa dimensione sempre proiettiva della concezione leibniziana lo presumerà aggiungo fin tanto che non sia provato il contrario di ripetersi dell'insuccesso e anche allora la frustrazione non diminuirà scompilirà i suoi sforzi futuri non è a noi che spetta di prescrivere i tempi soltanto i perseveranti sono premiati a chiamì Dio spetta di non ritenere buono il passato e sforzarsi di rendere ottimo il futuro qui si aprirebbe una grande questione la questione è in fondo l'idea di progresso come idea che in qualche modo dilaga per il lungo il pensiero tardo-secentesco e soprattutto settecentesco le varianti chiamiamole illuministiche radicali dell'idea di progresso faccio un solo nome condorsenno alla fine di questa parabola alla fine del settecento cioè è un'altra storia in qualche modo è una storia che si intreccia anche con questa storia di tradizione teologica ma l'idea appunto della umanità in movimento dell'umanità in progresso dell'umanità che non rimane ferma e fissa al passato ma si proietta verso un futuro che è un plus ultra di perfezione è un grande ideale che Leibniz tratta teologicamente e metafisicamente ma che è anche una storia che comincia a originarsi indipendente da qualsiasi categoria teologica però ripeto anche in questo caso cioè il coesistere delle due varianti chiamiamole quella immanentista e addirittura meccanicista e anticristiana ripeto cito Condorset per citare un autore massimamente lontano che concepisce tutta la storia del cristianismo come storia dell'arresto sostanzialmente del progresso del regresso dell'umanità in realtà era molto ignorante uno potrebbe dire dal punto di vista storico-teologico ma importantissimo da un punto di vista di una cultura del riscatto dell'autonomia del potere dell'uomo che però notate l'industriosità dice qui Leibniz si affaccia entra in sintonia anche con con questa prospettiva teologica passiamo a citazioni più tarde vedete anche l'altra grande opera pubblicata da Canti e nuovi saggi sull'intelletto umano non so mi pare interessante leggerli i brani più che le mie chiacchiere bisogna altresì riconoscere la totalità della bellezza della perfezione universale delle opere divine c'è un progresso perpetuo perfettissimo dell'intero universo così si raggiunge sempre una maggiore cultura notate l'universo in progress proprio in progressione e notate il riferimento alla cultura cioè in realtà la progressione dell'universo è la progressione della cultura che è la progressione della consapevolezza intellettuale dell'uomo notate già questa affermazione che poi verrà sviluppata in particolare dalla monodologia l'obiezione che allora il mondo già da gran tempo dovrebbe essere divenuto un paradiso si risponde facilmente sebbene già molte sostanze siano giunte a una grande perfezione non di meno per la visibilità del continuo all'infinito vedete il continuo all'infinito rimangono sempre nell'abisso delle cose nelle pieghe delle pieghe potremmo dire parti sopite che devono ancora essere svegliate verso il più e il meglio cioè per dire una sola parola sospinte verso una maggiore cultura notate quanto ritorni alla questione della cultura né conciò il progresso giungerà mai un termine allora cominciamo a comprendere come la realtà di un universo in movimento sia il pensiero di una progressione inarrestabile che vive del progressivo risvegliamento della parte sopita o non consapevole della mente fine conti questa insistenza della cultura è la insistenza sull'autocoscienza della realtà puramente spirituale e quindi gli elementi materiali e gli elementi di regresso di male sono una coscienza ancora sopita ricordate la distinzione amministrativa tra percezione e percezione quindi che cosa possa significare e ancora vedete questa apologia dei nuovi saggi sull'intelletto umano dell'inquietudine essenziale la felicità delle creature la quale non può consistere in un progresso perfetto che renderebbe insensibile e quasi stupite ma in un progresso continuo e non interrotto verso sempre beni sempre maggiori notate l'idea la contestazione della perfezione o della beatitudine o della felicità questione della felicità l'identificazione di questa con l'innovazione il progredire l'approfondire in qualche modo anche il desumere sistematicamente il variare potremmo dire infinitamente il tema il desumere sistematicamente la infinita ricchezza teoretica del reale in questo senso ovviamente quando io leggo questi brani non vi sembri una battuta mi viene in mente Bach la variazione Bachiana cioè la possibilità infinita di armonizzazione che da una cellula pensate all'avarizzo di Goldberg per esempio che potrebbe continuare l'infinito pensate all'arta della fuga che vengono a essere derivazioni di costruzioni teoretiche e armoniche infinite a partire dall'unico tema che tutte le contrae in sé quindi noi potremmo dire cosa dice Bach si potrà continuare non 30 variazioni di Goldberg ma 300 3.000 è all'infinito e ogni singolo motivo musicale ha un'infinità di variazioni un po' la questione della piega leibniziana ora non voglio costringervi a leggere notate però l'attacco del brano successivo non oso di nulla per certo né rispetto alla presistenza né riguardo ai particolari dello stato futuro delle anime cioè continua ad affacciarsi la questione teologica originiana della presistenza delle anime degli intelletti che attraversa tutta comunque l'indagine filosofica ve lo dicevo stamattina dei neoplatonici di Cambridge che è proprio un risultato tradizionale sia originiano che gregoriano notate ancora vedete il maiuscolo è tutto come qui tranne per i gradi della grandezza e della perfezione cioè in che senso la realtà è già tutta qui è già tutta perfetta potremmo dire non c'è un'ulteriorità da un punto di vista degli elementi costituiti del reale e allora la concezione delle monadi dell'infinità delle monadi in relazione alla mona dell'infinità di Dio ma è progrediente e processuale l'inscrizione della consapevolezza della mona nel progresso di felicità e di conoscenza all'interno della realtà creata vedete qui questi due altri frammenti sorvolo sono di due lettere una Pettersen che è questo strambo teosofo danese e un'altra Fabricius relativa alla composizione delle uraniadi prendiamo la fine della prima la pagina 2 vedete là si dovrebbero dare una specie di come dire canovaccio ideale rispetto all'opera poetica che questo Pettersen voleva comporre si dovrebbe dipingere con colori vivi le meraviglie della virtù angelica e celebrare la felicità delle anime beate che vedrebbero non soltanto la nostra terra che è sotto i nostri piedi ma mondi innumerevoli e attraverso gli spettacoli che si susseguono vedete in omni evum qui il latino è un pochino vedete zoppicante ma lasciamo perdere c'è un errore della bontà e della saggezza divina e se avanzerebbero sempre di più nell'amore e nella venerazione della mente suprema dove il problema dell'infinità dei mondi e dell'infinità quindi della manifestazione della mente divina come dire è una specie di recupero teistico della dottrina dell'infinità dei mondi bruniana post copernicana per intenderci quindi ancora una volta la flessibilità la plasticità del modello dell'epectasis che viene giocata da Leibniz in funzione contenitiva della crisi teologico metafisica della modernità leggiamo questo passo dei saggi di Teodicea ma quando queste cose non accadono in questa vita il rimedio cioè appunto la conversione del peccatore è già assicurato nell'altra la religione e anche la ragione ce lo insegnano noi non dobbiamo mormorare contro una piccola dilazione che la suggezza suprema ha chiesto bene di concedere agli uomini i perpetizi il tema che ritornerà in Lessing e ritornerà in Kant se io non ho raggiunto la perfezione in questa vita la grazia divina me la garantirà in una dimensione successiva guardate che è l'argomento dell'immortalità dell'anima kantiano cioè sembra una fesseria ma non lo è no? cioè a livello di tenuta della provvedenza divina della provvedenza divina della vocazione dell'intelletto alla conoscenza e alla perfezione logica l'imperfezione conoscitiva per Kant diventerà l'imperfezione morale sarebbe contraddetta dal non proseguire lo sforzo non so se sono chiaro no? la non realizzabilità di un compito infinito in un tratto finito di esistenza postula razionalmente la necessità della prosecuzione questo il postulato kantiano in realtà è una necessità metafisica laibniziana che in qualche modo viene qui attribuita alla stessa tradizione patristica no? alla stessa tradizione etologica quindi vedete come lo ripeto l'elemento storico teologico l'elemento patristico qui divenga un elemento strutturale costitutivo di credibilità anche di prova razionale ne parlavamo già a proposito di Eriugena no? Cioè Eriugena ha bisogno comunque della catena dei padri e dell'armonizzazione dell'autorità patristica che è una forma di testimonianza della razionalità della conoscenza che la ragione almeno in gradi supremi ha attinto della struttura profonda del reale molti hanno creduto che il numero di coloro che saranno talmente malvagi da essere dannati sarebbe molto piccolo e così ad alcuni sembra che bisognerebbe credere a qualcosa di mezzo tra l'inferno e il paradiso e lo stesso Prudenzio parla come se fosse contento di ciò e anche San Gregoglio di Nissa propende per questa soluzione cioè vedete quanto sia bella chiara la documentazione patristica di Leibniz e San Gerolamo Pencola verso l'opinione che sostiene che alla fine tutti i cristiani sanno riusciuti nella grazia la poca tassa si vedremo verrà citata poco più sotto un'espressione di San Paolo che lui stesso dà per misteriosa dicendo che tutto Israele sarà salvato ha fornito argomenti a molte riflessioni e parecchie persone più anche dotte hanno risuscitato l'opinione di origine che pretendeva che il bene avrà il sopravvento in tutto e per tutto che le cature ragionevoli diventeranno santi e felici persino gli angeli del male cioè ricostruzione come si dice a Roma perdonatemi questa espressione para para capito di quella che è la nostra traiettoria cioè questo quando io leggo questo passo mi sollego dicendo non sto vaneggiando no? cioè il Leibniz è una ricostruzione notate addirittura la chiamata in causa molto raffinata perché testimonia una lettura diretta di origine da parte di Leibniz cioè l'elemento chiave della dottrina originale dell'apocatastasi che è l'insistenza sulla salvezza escatologica di Israele tutto Israele sarà salvato il recupero di Romani 9 e 11 che in realtà origine sia nel convento ai Romani che nel periarchon utilizza per dimostrare l'escatologica apocatastasi del tutto in Dio d'accordo? quindi come dire questa è proprio una traccia di lettura non so se sono chiaro no? sta cogliendo un'articolazione esegetica originiana tipica che sorregge la dottrina dell'apocatastasi che non sempre o raramente emerge nelle tradizioni successive che sembrerebbe provare un rapporto diretto con testi originiani un'altura diretta dei testi originiani ripeto tutto Israele sarà salvato è un elemento biblico portante della dottrina dell'apocatastasi di origenia tanto più che Israele diventa il simbolo dell'umanità non redenta non credente o dei dei dannati aggiungo che anche Eriugena sicuramente Leibniz legge il dedivisione natura di Eriugena ricordate Gale 1681 rapporti diretti con la tradizione teologica di Cambridge qui sarebbe molto interessante approfondire il rapporto Cadworth Leibniz proprio perché l'opera di Cadworth il sistema interettuale dell'universo il vero sistema interettuale dell'universo è un'opera enciclopedica da un punto di vista della nostra questione è un po' colpevole la mia selezione di dati perché non ho tratto nessun brano da lì ciò nonostante ripeto il rapporto e vi ricordo che l'ultima le ultime pagine del dedivisione natura vi ricordate riguardano l'ipotesi della conversione finale di Israele tramite l'analisi della parabola del figlio prodigo è la penultima parabola che epitizza Eriugena interessantissimo lo ritroviamo questo elemento perché il figlio prodigo è quello che non vuole entrare nel banchetto escatologico quando scusate allora sono due fratelli il fratello che è rimasto presso il padre che non l'ha abbandonato il figlio prodigo sono i pagani il fratello fedele al padre sono i giudei ma quando il padre sacrifica l'agnello grasso e fa entrare nel festino in qualche modo escatologico il figlio prodigo ricorderete che il figlio buono che diventa cattivo non entra evidente un'immagine di israele e già origine così come iugena la interpretano quindi come punto critico dell'ottina dell'apocatastasi cioè l'idea qual è? alla fine entrerà l'altro fratello pure tutto israele sarà salvato e passiamo ah no scusate il libro del Vangelo Eterno che appunto è questo testo di Petersen pubblicato da poco in Germania è sostenuto in un'opera molto dotta dal titolo Apocatastasi Spanton vi ricordo che Leibniz scrive due abbozzi di opera titolata Apocatastasi ha destato molto rumore su questo paradosso Leclerc ha applaudito le tesi degli originisti ma senza dichiararsi pressi la prudenza è sempre estrema con Leclerc noi andremmo a identificare un personaggio chiave uno dei rassi o no e quindi dei pensatori antipuritani tra l'altro il rapporto tutto particolare con Pierre Baella conflittuale di Leclerc ma l'eredità al tempo stesso erasmiana e originiana di Leclerc ricordiamo appunto il ruolo anche di editore di Leclerc è un ruolo assolutamente decisivo cioè vedete come certi fili vengono a stringersi e a connettersi allora questo passo permettetemi questo ricordo io però ho scritto ok questo ricordo come dire di giovinezza mi ricordo quando caddi non al liceo ma al primo anno di università mi lessi i principi della natura e della grazia di Leibniz e era il primo anno di università e frequentavo un corso dove vengi a conoscenza della dottrina gregoriana dell'epectasis che mi piacque tanto ovviamente perché è bella e fu questo oltretutto con la memoria ovviamente del postulato cantiano dell'immortalità dell'anima che quello fortunatamente al liceo ancora si studiava fece un cortocircuito fra i tre testi quindi noi potremmo dire è una cosa un po' così personale che non ha grande rilevanza ma che diciamo i testi che mi hanno indotto a ricostruire la storia complessiva dell'epectasis e lavorandoci negli anni che purtroppo inesorabilmente si sono accumulati sono stati appunto la vita di mosaico di gregorio di missa questo testo laibniziano e la chitiera ragionpratica cantiana d'accordo quindi cosa vuol dire che se uno se ne accorge da questo testo evidentemente tutto quello che c'è in mezzo ancora non c'era ma è proprio la punta dell'iceberg che emerge allora leggiamocelo quindi questo testo il presente celeberimo e gravido dell'avvenire il futuro potrebbe essere letto nel passato ciò che è lontano espresso in ciò che è vicino non facciamo filosofia queste potentissime affermazioni leibniziane sarebbe interessante anche ricostruire la fortuna nel novecento no? certe questioni di Benjamin di Bloch ma fermiamoci qui sarebbe possibile conoscere la bellezza dell'universo in ciascun'anima se fosse possibile di spiegare tutte le pieghe pieghe che si sviluppano in modo sensibile solo con il tempo cioè la storia quindi dell'intelligenza come storia del dispiegamento della ricchezza infinita che ogni intelletto ha in sé perché? perché immagine di Dio e quindi ogni intelletto ogni anima ha in sé il divino che essendo infinito va solo dispiegato nella progressione ma siccome ogni percezione distinta dell'anima comprende un'infinità di percezioni confuse che racchiudono tutto l'universo l'anima stessa non conosce le cose di cui ha percezioni se non in quanto ne abbia percezioni distinte in rilievo e la sua perfezione in proporzione delle sue percezioni distinte quindi ciascuna anima conosce l'infinito conosce tutto ma confusamente come quando uno passeggia e arriva al mare la metafora meravigliosa di Leibniz e ode il gran rumore che esso produce ode i rumori particolari di ciascuna onda della quale il fremito totale è composto ma non li distingue nettamente cioè vedete come la realtà e allora c'è il rumore di ogni onda del mare c'è l'elemento fisico di ogni granello di sabbia c'è ogni riflesso di luce vedete ogni aspetto della realtà che viene in qualche modo colto sommariamente e con un grado limitato di evidenza quindi chiaramente il portato cartesiano e il presupposto anticartesiano in realtà l'evidenza nasconde un'infinità di piccole percezioni sono le famose piccole percezioni e cioè di pieghe che vanno dispiegate però ancora una volta voi capite che ciò che tiene insieme l'evidente e il nascosto è l'infinita esplicazione possibile dell'intelligenza divina che in tutti gli aspetti infiniti del reale si manifesta quindi da questo punto di vista noi che cosa potremmo dire che per Leibniz l'infinità di aspetti del reale sono tutti comunque garantiti dall'infinità della rivelazione veritativa divina che è la persona che in ogni aspetto del finito si manifesta infinitamente cioè come dire l'infinita pluralità è non come si dice qualcosa il contrario di concentrica eccentrica in senso brugnano ma sostanzialmente è tenuta insieme dall'infinità di Dio che veritativamente si rivela in ogni aspetto del reale così le percezioni confuse sono il risultato dell'impressione dell'intero universo su di noi lo stesso accade non in monade di soltanto la conoscenza distinta di tutto perché è nella sorgente quindi c'è un Dio che tutto conosce che ascolta tutte le onde del mare conosce ogni granello e concepisce ogni aspetto della realtà come manifestazione di una verità che però è finalizzata alla riflessione intellettuale della monade dell'intelletto allora il mondo che cos'è? non è nient'altro che l'aspetto opaco semplifico dell'atto intellettuale a cui la mente che si conosce è chiamata riconoscendosi come immagine di Dio e quindi vedete la conclusione è vero che la suprema felicità da qualunque visione beatifica a conoscenza di Dio sia accompagnata non può mai essere totale poiché Dio Dio infinito non può essere conosciuto interamente perciò la nostra felicità non consisterà mai e non deve consistere in una gioia completa questa è quasi una traduzione di alcuni passi di regola di Missa nella quale non vi sarebbe più nulla da desiderare che renderebbe stupido il nostro spirito il tema della stupità dello spirito come arresto dell'intelligenza del desiderio cioè dell'arresto della progressione intellettuale ma in un progresso perpetuo verso nuovi piaceri e nuove perfezioni vedete la fine del passo della monodologia sotto un'anima non può leggere in se stessa se non ciò che essa si rappresenta distintamente non essendo in grado di svolgere una sola volta tutte le sue pieghe perché vanno all'infinito no questa realtà barocca infine ripeto l'immagine della variazione è un'immagine felice penso per restituire un attimino della variazione infinita ovviamente cioè la piega infinita ma la verazione è una vuol dire una struttura una curvatura infinita della verità e vedete vi dicevo degli scritti sull'apocatastasi facciamo un ultimo sforzo poi correrò sugli ultimi due si può quindi dedurre che il genere umano non rimarrà sempre in questo stato poiché non è conforme all'armonia divina a far vibrare sempre la stessa corda si deve quindi credere secondo le naturali ragioni della congruenza che le cose debbano avanzare verso il meglio sia poco a poco sia talvolta per salti infatti anche quando spesso sembrano andare verso il peggio vedete l'ottimismo leibniziano Candide Voltaire lo ridicolizzava in questi termini bisogna pensare che questo accada come quando noi arretriamo per meglio saltare io vi ricordo che questo è un teologumeno originiano cioè la punizione divina o il peccato l'indurimento nel peccato è voluto da Dio per poter accendere un maggiore desiderio e quindi un salto in qualche modo una brama spirituale quindi paradossalmente l'arretramento o l'indurimento ricordate che stamattina ci impegnavamo sull'indurimento del cuore del faraone è finalizzato a rendere impossibile la statina del peccato e a proiettare il desiderio verso il bene quindi ripeto sono metamorfosi di concezioni teologiche quindi se anche il genere umano non dovesse essere sempre come attualmente comunque a condizione che esistano sempre delle menti che conoscono la vita e la indagano ne esigurà che le menti un giorno arriveranno a tingere verità indipendenti alla testimonianza dei sensi ovvero teoremi di una scienza pura che possono essere dimostrati esattamente le ragioni che sono già state trovate e che non eccedono una grandezza determinata vedete tutto e già qui devono essere soltanto dedotti questi teoremi sviluppati e notate allora la interpretazione del progresso del mondo come progresso della conoscenza della mente cioè la mente quella che letteralmente fa avanzare il mondo lo toglie nella conoscenza del teorema che lo costituisce infatti se noi consideriamo una mosca come oggetto di scienza così come l'oggetto del cerchio è chiaro che una definizione della mosca che ne esibisse la struttura è l'infinitamente più complicata della definizione di un cerchio e quindi una mente ogni mente ha un orizzonte nella sua capacità presente nei riguardi delle scienze ma non ne ha nessuna nella sua capacità futura l'educazione l'educazione dell'umanità è un progresso infinito di conoscenza cioè è l'ideale erasmiano del cristianesimo come cultura logicizzato e proiettato in dimensione metafisica possiamo passare rapidamente all'essing perché l'essing hai nei duplique non la verità nel cui il secondo testo nel cui possesso un qualunque individuo è o ritiene di essere bensì lo sforzo sincero che è impiegato per acquistarla costituisce il valore dell'uomo non il possesso ma la ricerca della verità si amplono le sue forze nelle quali unicamente la sua sempre crescente perfezione consiste il possesso rende placidi pigri e superbi se Dio nella sua destra tenesse racchiuso ogni verità nella sinistra la sempre viva tensione verso la verità pur con l'aggiunta che io sempre eternamente errerò e se mi dicessi scegli allora con l'umiltà di afferire la sinistra e direi padre dammi la verità eppure è quella riservata solo a te no? una forma come si dire drammatica di restituire queste dottrine teologiche io qui erroneamente vedete vi ho riportato un brano di educazione del genere umano del 1777 ve lo affido alla lettura sostanzialmente un brano in cui appunto si comincia a prospettare tutta la storia dell'universo come storia della cultura e dell'educazione dell'umanità e a postulare la necessaria sopravvivenza dell'anima oltre a questa esistenza dell'uomo oltre a questa esistenza e quindi dell'immortalità dell'anima e della successione delle forme di esistenza dell'uomo per poter perché si possa adeguare a questo compito infinito che è il rapporto sempre progressivo all'infinità d'accordo? quindi vedete come l'eredità leibniziana e il rapporto diretto di Lessing con Leibniz poi li attivi esplicitamente con molta semplicità determinate forme e figure teologiche allora sostanzialmente i testi kantiani sono tre ma vorrei cominciare con un piccolo presupposto che ci consente sono testi molto lunghi allora non ve li leggerò se non l'ultimo la fine di tutte le cose allora torniamo alla domanda di di ieri di di Arianna è chiaro che il genio kantiano la sua autonomia ritorniamo alla solita questione che non può così come Leibniz contrattano nella ricezione di una forma di uno schema ciò nonostante la struttura stessa della ragion pura è inseparabile dalla questione teologica no vi ricordate cosa nell'introduzione mi pare ho dovuto limitare le prezese della ragione per far posto alla fede che è una fede pratica per kant allora da questo punto di vista che cosa significa metafisica per kant il discorso è enormemente complesso qual è il ruolo delle idee razionali in kant qual è la distinzione tra uso regolativo e uso costitutivo delle idee della ragione guardate che è una riflessione su tutto questo non è secondaria se ad esempio identifichiamo ne parlavamo l'altro giorno in riferimento agli Aspers o ieri ora non mi ricordo in un'eredità kantiana che va dagli Aspers appare la storia stessa dell'ermeneutica una prospettiva che entra fortemente in sintonia con questo recupero della tradizione dell'originismo e delle pectasis in fin dei conti la possiamo riassumere nel riconoscimento del carattere congetturale della ragione metafisica cioè in fin dei conti l'idea metafisica è una congettura razionale per Kant che esclude l'atto di conoscenza determinante che sarebbe la trasformazione ricordate passi kantiani celeberrimi contraddittoria del numero in un fenomeno dipendente dagli atti trascendentali dalle intuizioni pure della categoria dell'intelletto dell'assessato apprensivo della percezione trascendentale cioè la trasformazione dell'autonomia del metafisico che non viene certo legato da Kant ma anzi viene recuperato e postulato a livello pratico come oggetto di costruzione ipotetica e quindi di conoscenza sempre tendenziale sostanzialmente mai costitutiva allora qui il problema è un problema serio cioè qual è in fin dei conti il rapporto tra la pretesa di conoscenza metafisica e l'eccedenza del Dio personale e delle realtà che lo rivelano come Dio personale pensate in fondo che l'uomo in realtà per Kant rimane libero d'accordo? e quindi in questo senso è immagine della libertà assoluta di Dio e rimane libero e chiamato all'adeguamento al divino cioè qui c'è una profonda ritrattazione di tematiche teologiche fin dei conti Dio stesso viene dimostrato a livello pratico ricordate come sommo bene come garanzia della armonia della concordia tra virtù e felicità cioè allora da questo punto di vista queste connessioni sono il tentativo di tenere una tradizione teologica e riconfigurarla a livello di ipotesi razionale cioè di una ragione che evidentemente è storicamente condizionata no? quindi non è una ragione pura assoluta è una ragione pura storicamente condizionata potremmo dire torno sulla questione c'è qualcosa di analogo tra la concezione gregoriana dello stocasmos della congettura ocusaniana che sono comunque che è comunque un'esigenza di tutela dell'alterità di Dio rispetto alla ragione no? che quindi è comunque una messa in questione della pretesa del potere della ragione sulla questione del divino e la confutazione della metafisica come scienza da parte di Kant la necessità di dover limitare il potere della ragione per poter appunto lasciare spazio alla fede pratica per non ridurre il problema del rapporto con il divino a un rapporto puramente conoscitivo quindi io non voglio qui ora chiamare in questione la questione del pietismo dell'eredità teologica kantiana ma come dire esiste evidentemente all'interno di questa figura del rapporto infinito e progressivo tra uomo e Dio una comune esigenza di tutela dell'ulteriorità di Dio rispetto al potere conoscitivo del determinativo dell'uomo che in contesti infinitamente diversi questo è del tutto ovvio mi sembra persino cretino specificarlo però testimonia a livello di storia delle idee una continuità come dire c'è un problema di un kant biblico sostanzialmente no? cioè di un rapporto storico con la Bibbia allora il primo brano vedete vi ho riportato il brano fondamentale relativo al postulato relativo all'immortalità dell'anima la confonità perfetta della volontà della legge morale la santità una perfezione in cui non può aggiungere nessun essere razionale in nessun momento della propria esistenza notare la santità e siccome pur essendo richiesta come praticamente necessaria può essere incontrata soltanto in un progresso che va all'infinito verso tale conformità perfetta e seguendo principi della ragion pura pratica un simile progresso pratico viene necessario come oggetto reale della nostra volontà allora è razionale è iscritto nell'atto pratico la necessità di questa libertà che è stata comunque postulata sostanzialmente la necessità del progredire e quindi della ulteriorità della propria esistenza ma questo progresso all'infinito è possibile solo sul posto di un'esistenza di una personalità dell'essere razionale che durino all'infinito cioè l'imperfezione o meglio la processualità la processualità e la progressività dell'adeguamento alla santità postula la necessità dell'esistenza infinita cioè piaccia o non piaccia questo è un meccanismo puramente teologico riportato ovviamente a livello pratico e non più a livello ipotetico o metafisico o ancora peggio o meglio riportato a livello di ipotesi di certezza pratica non di mera ipotesi metafisica ma di certezza pratica ma questo progresso all'infinito non può che prendere quindi il nome di immortalità dell'anima e notate a un essere razionale all'infinito è possibile solo il progresso all'infinito dai gradi inferiori ai gradi superiori alla perfezione morale e l'infinito Dio quindi Dio è infinito in atto per il quale la condizione del tempo è nulla vede in questa serie che per noi è senza fine la conformità totale alla legge morale cioè in fine conti è Dio che traduce il progresso infinito in santità notate ciò che soltanto può toccare la creatura relativamente alla speranza di questa partecipazione sarà la sicura coscienza e la propria intenzione un desperare dal progresso avvenuto fino a dal peggiore al migliore dal proposito immutabile che perciò ha conosciuto un'ulteriore continuazione ininterrotta di tale progresso finché la sua esistenza può durare anche oltre questa vita e così una piena adeguazione alla volontà di Dio non mai a dir vero qui in un momento avvenire immaginabile l'esistenza ma soltanto nell'infinità comprensibile solo a Dio della propria durata cioè notate cosa il rovesciamento cioè in fin dei conti è la necessità del perfezionamento morale e del passaggio dalla virtù alla perfezione della virtù che è la santità che si postula l'esistenza di Dio come infinito che garantisce l'infinita esistenza dell'uomo cioè un recupero un giro che recupera a livello ipotetico prima razionale e poi pratico quelle verità teologiche che comunque continuano a condizionare in fondo il presupposto poi il postulato l'iperpostulato teistico di Kant torniamo alla solita questione per quale motivo Kant non è spinoziano perché altrimenti la moralità non avrebbe senso il rapporto tra virtù e felicità non avrebbe senso la vita sarebbe assurda dove come dire perché Kant è un antispinoziano perché è un finalista perché vi è la convergenza infinita tendenziale tra virtù in qualche modo sforzo morale lotta interiore e garanzia del premio della virtù stessa lungo passo dalla religione intronimitiva e della sua ragione non ve lo commento se no facciamo le nove e abbiamo il treno perché è molto interessante perché questione del libero arbitrio riaffermata rapporto tra libero arbitrio e progresso contestualizzazione eminentemente teologica delle nostre questioni seppure di una religione recuperata entro i limiti della sola ragione è interessante anche una serie di citazioni bibliche da Romani 8 Efesini 4 22 il riferimento all'uomo nuovo e all'uomo vecchio cioè ripeto qui Kant parla la lingua della storia della teologia seppure con una prospettiva filosofica razionale insomma le nostre questioni stanno qui dentro no? entra in relazione a questa chiamiamola religione razionale a partire dalla riflessione critica nei confronti di un'ermeneutica tradizionale ermeneutica teologica e biblica d'accordo? ripeto voglio finire entro pochi minuti e vi propongo uno scritto ancora più tardo che è la fine di tutte le cose che vedete del 94 molto tardo di Kant uno scritto breve e splendido a dire il vero è uno scritto dedicato all'escatologia voi capite che la fine di tutte le cose è il fine di tutte le cose cioè torniamo alla questione della finalità cioè in fine conti scusate questo accenno a Bruno per Bruno non c'è sopravvivenza personale al di là di questa esistenza non vi è legame nei confronti di una vicenda personale no? di affermazione in fondo la vicissitudine totale è anche il risucchiamento della personalità in una processualità infinita diventerò altro e in fine conti il perfezionamento del soggetto sta anche in fondo nel diventare l'oggetto furioso della brama di infinito e di totalità d'accordo? e quindi non rimanere aggrappato nella propria finitezza al contrario da un punto di vista kantiano il problema della fine di tutte le cose è il problema della garanzia della personalità individuale cioè la fine di tutte le cose è il fine di tutte le cose è la garanzia della sensatezza della vita morale allora leggiamolo notate innanzitutto la proprio alternativa che viene qui posta tra escatologia dualistica ed escatologia chiamiamola monistica o apocotastatica e a sua volta noi potremmo dire la distinzione tra un'escolatologia quindi due questioni distinte tra escatologia origeniana e escatologia gregoriana per intenderci l'idea di una fine di tutte le cose tra la sua origine non da ragionamenti circa il corso fisico delle cose nel mondo ma circa quello morale è unicamente da essere suscitata il postulato cantiano che governa l'indagine teologica tale corso inoltre può essere rapportato solo all'ordine sovrasensibile che è comprensibile unicamente da un punto di vista morale che appartiene all'idea di eternità l'idea di eternità l'aveva detto anche nelle regioni mentre io mi lasso la ragione nei brani che vi ho selezionato ha senso unicamente a partire dall'affermazione della fede pratica che è una fede pratica razionale ricordiamo cioè dal postulato razionale che emerge dall'atto cioè dall'esperienza della libertà detto altrimenti io sono libero io per esempio resisto alla tentazione in questo senso parlavamo ieri noi potremmo dire l'uomo fedele che non tradisce è un uomo che si rivela libero cioè rispetto all'aspetto fenomenico della pulsione o dell'inclinazione sensibile sensibile nell'atto di libertà si vive un atto di virtù questa è la concezione kantiana che immediatamente postula perché non si viva nell'insensatezza l'esigenza di accordo tra virtù e felicità che non è soltanto una felicità immanente nell'atto stesso della virtù che è piuttosto doloroso ma è proprio recuperato nella concezione sostanzialmente del premio cioè ovvero della garanzia della liberazione da un aspetto puramente fenomenico e in fondo dualistico del proprio esistere che sarà solo tendenziale e allora è da questa prospettiva che si deduce l'esistenza dell'immortalità e paradossalmente noi potremmo dire che si deduce l'esistenza di Dio postulata a livello pratico cioè noi potremmo dire che l'atto della libertà dell'uomo quella che fa esistere Dio e che fa esistere a partire dall'ipotesi di Dio la sopravvivenza del soggetto a livello personale e l'idea di finalità che quindi connette le due idee non so se sono stato chiaro no? cioè proprio il meccanismo dei postulati kantiani sostanzialmente la rappresentazione delle cose ultime che dovrebbero avvenire dopo l'ultimo giorno va allora considerata come una traduzione di esso in termini sensibili assieme alle sue conseguenze morali per noi del resto teoricamente non concepibili occorre poi notare che fin dai tempi più antichi troviamo due sistemi circa il modo di rappresentarsi l'eternità futura l'una è quella degli unitari che pensano che l'eternità abbia di dunque aspetti a tutti gli uomini purificati attraverso più o meno lunghe spiazioni regolo di inizio a origine d'accordo? unitari notate come qui Kant stia indicando la dottrina dell'apocatastasi cioè sta recuperando la dottrina dell'apocatastasi l'altro è quello dei dualisti che pensano invece che abbia di dunque aspetti solo alcuni eletti e tutti gli altri uomini invece tocchi l'eternità di nazione guardate è riugena cioè uguale tale e quale ricordate l'unico dio non può non governare un'escatologia assolutamente unitaria all'interno della quale la distinzione eletto regietto ricordate il reddito generalis e specialis è soltanto una finzione provvisoria d'accordo concessa ai dualisti nella mente corta l'altra escatologia è l'escatologia dualistica di tipo agostiniano dato l'approvata esperienza della superità della nostra epoca sulle precedenti per quello che riguarda la moralità si dovrebbe anche nutrire la speranza che il giorno del giudizio venisse piuttosto pensato venisse piuttosto in maniera simile all'ascesa di Elia in cielo che non a quello dello sprofondamento nell'inferno di core della sua banda e in tal modo producesse la fine di tutte le cose della terra cioè l'escatologia è quella dell'ascensione progressiva della totalità piuttosto che della punizione infernale d'accordo quindi è una netta presa di posizione a favore dell'ipotesi razionale dell'apocatastasi solo questa fede eroica nella virtù non sembra avere almeno dal punto di vista soggettivo un influsso così forte e universale per la conversione dei cuori quanto la credenza nella comparsa di eventi terrificanti pensata come antecedente alle cose ultime notate come anche qui ritorni il tema della che si affacciava in eriugena della efficacia del timore dell'inferno da un punto di vista del progresso morale e in fin dei conti anche Erasmo aveva per certi aspetti elementi che andavano in questa direzione la minaccia dell'inferno una minaccia finalizzata didatticamente potremmo dire alla formazione della libertà e vedete veramente stiamo per concludere d'ora in poi non vi sarà più tempo cioè la fine di tutte le cose tramite la citazione del libro dell'Apocalisse tende a pensare la fine o meno del tempo da questo punto di vista torniamo alla alternativa Gregorio di Nissa progresso infinito ricapitolazione oltre il tempo nell'eterno della creazione ricordate di essuna di origine il giorno prima della creazione che non è nella serie temporale o eriugena ricordate i corpi diventano anime l'anime diventano intelletti gli intelletti diventano il Dio e in Dio non si dà distinzione differenziazione serie tempo spazio tempo e spazio sono prerogative dei corpi e non degli intelletti tanto più se questi intelletti sono ricapitolati nell'eterno allora abbiamo la prospettiva di due soluzioni escatologiche distinte questo è Kant eh d'accordo cioè la soluzione apocatastatica piena del riassorbimento nell'eternità del superamento del trascendimento del tempo e vedete appunto la citazione dell'apocalisse ed ora in poi non vi sarà più tempo la riproposizione dell'altrina delle pectasis vediamo che ci dice quel che è qui rappresentato è la fine di tutte le cose come oggetto dei sensi ma di ciò non possiamo farci assolutamente alcun concetto infatti cadiamo inevitabilmente in contraddizione quando ci proponiamo di fare un solo passo dal mondo sensibile a quello intellegibile cioè noi non riusciamo razionalmente a pensare l'eterno e in qualche modo a pensare anche il superamento del dualismo fenomeno non umeno che è specifico dell'esistenza temporale della condizione umana ma proprio questo è quello che qui avviene perché l'istante che segna la fine del mondo sensibile deve essere anche l'inizio di quello intellegibile e conciò quest'ultimo è unito al primo un'unica serie temporale che è contraddittorio cioè sarebbe l'eterno ciò che succede al temporale e questo è contraddittorio con il superamento del temporale stesso ma anche diciamo che pensiamo una durata come infinita come eternità e ciò non perché abbiamo un concetto determinabile della sua grandezza la cosa infatti è impossibile perché manca ad essa totalmente il tempo che pure dovrebbe servire come sua misura cioè se dura infinitamente il tempo è necessario per misurare l'eternità e il concetto è contraddittorio ma poiché dove non c'è tempo nemmeno c'è una fine questo concetto è un concetto puramente negativo dell'eterna durata mediante il quale non si estende la conoscenza ma il quale solo si vuol dire che la ragione e la conservazione il fine ultimo dal punto di vista pratico non può trovare soddisfazione sulla via dei mutamenti continui capite? cioè la ragione ha bisogno di non limitarsi al mutamento continuo e al progresso continuo ma di postulare la fine del progresso e l'attingimento cioè sono le grandi questioni teologiche con le quali ci siamo imbattute ripensate in senso puramente teoretico e razionale nella loro più o meno logica tenuta razionale sebbene quando essa si fa il principio della quale delle cose nel mondo trovi così poca soddisfazione per quello che riguarda il suo uso teoretico teoretico scusate sono stanco che piuttosto cade in una totale assenza di pensiero cioè nel senso che l'esigenza razionale anche sarebbe il black out della ragione stessa ora ce lo dice sarà allora non le resta che pensare a un mutamento che procede all'infinito nel tempo in un costante progresso verso il fine ultimo finalità costante progresso infinito nel quale l'intenzione che non è un fenomeno ma qualche cosa di sovrasensibile dunque di immutabile nel tempo rimane sempre uguale a se medesima la regola dell'uso pratico e della ragione secondo questi non significa altro che questo noi dobbiamo assumere le nostre massime come se in tutti i mutamenti che procedono all'infinito dal bene al meglio il nostro stato morale per quel che riguarda l'intenzione l'uomo numenon la cui vita è in cielo notate quanto è interessante la restituzione del concetto dell'uomo numenico attraverso riferimento a filippesi 3.20 che vedremo tornerà non fosse assolutamente soggetto ad alcun mutamento temporale ma che a un certo momento una volta si verificerà in un istante in cui ogni mutamento verrà a meno è una rappresentazione che sconvolge la nostra immaginazione vedete questa oscillazione tra l'idea del progresso e l'idea del perfezionamento che è propria del numeno ed è riferimento alla vita che è in cielo allora qui che cosa sta facendo Kant c'ha di fronte il testo di Paolo che verrà citato molte traduzioni edizioni tedesche e traduzioni italiane non si accorgono della citazione biblica che sta qui sotto perché? perché si vanno a guardare il testo biblico o in lingua antica o in italiano nelle traduzioni italiane o neanche se lo vanno a guardare il testo biblico vedete che c'è un'ultima citazione di Filippesi che chiude il brano che è la citazione dove c'è il termine epecteinomenos vedete queste strane coincidenze che però ha una stranissima variante che è quella della traduzione luterana cioè qui cita Paolo nella traduzione luterana Kant d'accordo? rendendo a noi italiani riconoscibile il rimando biblico ai tedeschi che non si vanno a cercare la Bibbia irriconoscibile la decifrazione appunto del passo Paolino d'accordo? allora scusate torniamo su notate la fine del tempo la fine di tutte le cose la fine del perfezionamento del progresso che coincide con l'attingimento della pura numenicità guardate che la questione è molto interessante ricapitolando tutto il nostro percorso cioè in fin dei conti potremmo dire che da questo punto di vista un accesso all'eternità significherebbe la perdita dell'umanità non so se sono chiaro qui lo espliciterà Kant cioè il fatto che l'intelligenza stessa ha bisogno di progresso e di tensione e di mutamento e di temporalità in questo senso noi potremmo dire che ci sarebbe un'idea di riassorbimento di tutto questo un'eternità che è una pura unità immota che è un cortocircuito per la ragione dell'uomo allora no? ricordate Eckhart che cosa vuol dire di ripiombare nell'abisso dell'uno o lo pseudionigi la tenebra qualche modo sono idee analoghe a questa pietrificazione dell'eternità così come viene prospettata la ragione che cerca pure di attingere la pura numenicità dell'uomo ma che dunque allora infatti la natura intera si irrigirà e per così dire si pietrificherà l'ultimo pensiero l'ultimo sentimento rimarranno fissi per sempre senza mutamento nel soggetto pensante evidentemente se è un soggetto che è diventato numenico alla fine del tempo che può essere anche magari la fine del dannato significa pietrificazione per un essere che può essere consapevole della sua esistenza e dell'essenzione di essa come durata solo nel tempo una vita se mai vita si può chiamare deve sembrare uguale a un lamento allora leggiamole anche con la consapevolezza delle tradizioni filosofiche del riassorbimento nell'uno cioè quando diugena dice che tutte le creature torneranno a essere uno in Dio non ci sarà più Dio e neanche l'articolazione trinitaria e ci sarà l'attingimento dell'eterno che consistenza manterrà la singola creatura l'annullamento che però è un esito mistico pensare all'annullamento e cartiano infatti per immedesimarsi in tal situazione si deve pensare in generale qualcosa ma il pensiero contiene la riflessione ed essa non può avvenire che nel tempo si debbano allora rappresentare gli abitanti dell'altro mondo in modo tale che essi a seconda loro diversa dimora cantino sempre lo stesso inno il loro eterno alleluia eternamente lo stesso lamento così si deve indicare la totale assenza di cambiamento nella loro condizione la pietrificazione il dannato rimane dannato se accettiamo la concezione dualistica se invece propendiamo per la concezione monistica tutto è fissato nell'eternità di Dio questa idea non di meno per quanto oltrepassi la nostra capacità di conoscere è strettamente imparentata con la ragione del suo uso pratico anche quando si assume la condizione fisico-murale dell'uomo in questa vita sotto il suo aspetto migliore che gli è posto come fine resta tuttavia che anche con la coscienza e l'immutabilità della sua intenzione non può trovare soddisfazione la prospettiva di un continuo cambiamento sia nel cambio fisico che in quello morale notate che questa era un'obiezione mi pare di Luigi ma come si può identificare la beatitudine in qualcosa che insaziabilmente urge verso altro e che non attinge mai la beatitudine ma la rinvia sempre ulteriore regalo di Nissa ogni atto estatico di fruizione della felicità è anche un atto di disperazione e dolore perché la felicità viene nella sua pienezza avvertita come ulteriore d'accordo allora razionalmente la ragione non può fare a meno di tendere anche all'ipotesi della fine del tempo e del progresso infatti lo stato in cui si trova al momento è ancora sempre un male sta quasi finendo ragazzi scusate lo sfinimento a paragone di quello migliore in cui è pronto ad entrare la rappresentazione di un progresso infinito verso un fine ultimo risulta quindi una prospettiva su una serie infinita di mali che per quanto sempre siano superati da bene più grandi non permettono però che sorga quella soddisfazione che l'uomo riesce a immaginarci solo in quanto il fine ultimo sia definitivamente raggiunto vedete è l'oscillazione dell'escatologia se voi prendete massimo il confessore abbiamo qualcosa di analogo d'accordo cioè è il progresso infinito ma se è progresso infinito qualsiasi stadio provvisorio è un male ed è una serie infinita di mali rispetto all'ulteriorità di beni nella quale questo progresso è iscritta in tutto ciò incappa l'uomo che si lambicca il cervello nella mistica notate l'affermazione cioè la mistica è un vicolo cieco e le due posizioni razionalmente si rovesciano l'una nell'altra cioè in fin dei conti notate origenismo e nissenismo sono le due facce dell'escatologia razionale entrambe noi potremmo dire irrappresentabili o comunque non dominabili da un punto di vista razionale insoddisfacenti da un punto di vista razionale tutto ciò solo perché gli uomini vorrebbero a fine godere di un eterno riposo che costituisce per loro la supposta fine di ogni cosa dire il vero un concetto che implica l'abolizione di un'intelligenza e la fine di ogni pensiero quindi notate che malgrado qui sia paralizzato nella alternativa e dica sta mistica non ci aiuta poi Kant in qualche modo prende una posizione la fine di tutte le cose che passano attraverso le mani degli uomini quando anche i loro fini sono buoni è una follia che consiste nell'uso per raggiungere questi fini di mezzi estitualmente contrari la saggezza ossia ragion pratica della sua perfetta capacità di commisurare i mezzi al fine ultimo di tutte le cose il sommo bene appartiene solo a Dio quel che si può chiamare saggezza umana non va oltre non agire in modo manifesto contro la solidà il testo è interessantissimo cioè recuperiamo la contrapposizione tra saggezza divina e follia umana si affida unicamente a Dio la conoscenza della modalità della fine che la ragione non riesce a comprendere questa assicurazione contro la follia che l'uomo può sperare di raggiungere solo attraverso tentative di riprodurre di immutamenti dei suoi piani è per lui più che altro un tesoro Klein rispetto al quale anche l'uomo migliore può solo cercare se mai in qualche modo potesse raggiungerlo vedete Filippesi 3, 12, 14 la traduzione luterana ma mai li potrà avere la certezza egoistica di possederlo e tantomeno procedere come se se ne fosse impadronito procedo mai considerando quello che io colgo come un possesso ma proseguendo di linea di punto in punto e pecte in omenos proteso verso la chiamata celeste allora perché è interessantissimo questo brano perché in fin dei conti torna al punto di partenza che è Filippesi 3, 12, 14 no? le pecte in omenos e le pectasis allora mi fermo con